salve sono alex ignazio 93 e questo episodio comincia con una correzione o anzi direi un'aggiunta all'episodio precedente perché mentre lo montavo pensavo vabbè quella cosa di napoleone l'affronteremo dopo però magari qualcuno può venire il dubbio già adesso ovvero che in questa scena che state vedendo napoleone apre lo scrigno e trova qualcosa e uno potrebbe pensare ricordandosi dei glifi di assassin's creed 2 allora chiaramente si tratta della mela vi posso dire che la cosa della mela numero uno di napoleone verrà ripresa ma non qui più avanti nel dlc quindi verrà svelato che cosa ha trovato e adesso iniziamo il vero episodio stamane ho incontrato tre uomini con la testa di un poveretto su una picca mi hanno preso per un nobile per via dell'uniforme e volevano che gridassi viva la repubblica per provare la mia lealtà suppongo che esibire la coccarda tricolore sia fuori moda che hai fatto ho gridato viva la repubblica un uomo di principio la vita vale più della dignità ma questo è ciò che succede quando il potere finisce in mano a pazzi e affamati e l'esercito è guidato da selvaggi assetati di sangue rughe volevo farlo assegnare a una guarnigione fuori mano ma quell'uomo ha amici molto in alto è intoccabile ma tu sai dove posso trovarlo in giro corre voce che lui e alcuni dei compari intendano marciare sul grand châtelet oggi pomeriggio se dovesse capitargli qualcosa la francia non ne soffrirebbe né la mia carriera bene preparati un discorso prendete le armi nessuno si muova forza gente voglio un guardiano tenete ridotto bastardi chi si oppone a noi warren grazie signore non so che unità appartenete ma grazie se vuoi ringraziarmi puoi andare alle mura a fermare questi massacri si signore grazie signore Merda! Troppo lento! Alla spalla! Non parare quello che non vedo! Se avete ordini di cacciarci da questa sala Allora dovrete usare la forza! Non ce ne andremo se non con le maionette! Ah, ma amministrare è governare E governare è regnare Questo è il succo del problema Signor Mirabù A te, vero La Francia merita di meglio Cos'è stato? Il Valle de Luxemburgo Ruie, ripulite tutto, è ora Lo dicevo che avrebbe parlato Ottimo lavoro, Capitano Marie Il prezzo del grano è più alto che mai, Gran Maestro Gli agenti dirotteranno i carichi ai nostri porti Aspettano il vostro ordine Bene Affamateli La fame e la furia sveleranno ai loro occhi i falsi maestri Andateci piano Perciò che chiedete ci vorrà un anno, Gran Maestro Se non due Il si oppone a noi, vuole! Non vuoi seminarmi? Ha! Te la stai facendo sotto? Il non è vinta! S'il vous plait! Reculez, approchez-vous! Qu'est-ce qui est ici? Qu'est-ce qui est ici? Qu'elle quantité? Non le drôle, le prix n'est pas négociable Cosa ne sai dei mercanti di grano? Ciao anche a te Molti di loro sono poveri ormai, perché? Ho una pista su Germaine Una donna di nome Marie compra per lui i carichi di grano E li dirotta in un porto privato Marie Levesque La conosci? I Levesque sono templari dalla terza crociata Marie è stata l'unica a opporsi alla cacciata di Germaine Non mi sorprende che lavori per lui Sai dove possiamo trovarla? No, io non lo so Ma il poco grano che riesce ad arrivare a Parigi ora Si trova all'Hotel de Ville Ottimo! Andrò lì Forse scoprirò dove si trova la signora Levesque Tutte cette énergie Ehi! Tornate qui! Avete mancato il molo, idioti! Dove andate? Mi tocca inseguirla Occhio a dritta Attento! Ora ti caghi sotto! Premate, porca troia! Vieni qui e affrontami da uomo! Il è prezzo! La riflessione sarà il triunfo Allonge, zio Forza! Slegate la bolina! Capitano! Qualche problema? No, signora! Conoscete gli ordini? Sì, signora! Bene! E inoltre vi informo che uno dei sacchi dovrà cadere Sì, signora! Al lavoro! Ma cosa? Cazzo, è un cadavere Merda Il Palais du Luxembourg, eh? E che state combinandola? Sì, signora! Vieni, venite a affrontare! Sì, signora! Un altro veneno! Sì! Avevi ragione Marie Levesque fa scaricare il grano E poi lo fa portare al Palais du Luxembourg Se la gente pensasse che i reali accumulano cibo in piena carestia Il caos Che farebbe assai comodo a Germaine La signora Levesque è tua Io recupero il grano rubato e lo porto fuori prima che lo trovino Sta fuori dai guai Non farti prendere Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Dacci la polvere! Che cosa faremo, Michelle? Se solo potessi mettere le mani sulla guardia Bella festa Vi siete superata stavolta Grazie Ora scusatemi Vado da mio marito Aiuto! Può finire in due modi Dacci la polvere Va via o ti spacco quella faccia di me Senti, rivoluzionario! Grazie, signore State bene Sì, bene Se mi fate da scorta vi prometto uno spettacolo epocale Io aiuto sempre gli artisti in difficoltà Manca poco Quello è l'ultimo Grazie, amico Se potessi ricompensarvi davvero Non serve Il diversivo sarà più che abbastanza In che senso? Niente E sarà di non Tutti manderanno sulla porca Per una misura pagnotta Tutti si trovano qui per cos'è? Simile E questa la loro gestione Se solo potessi Farei a pezzi queste sbarre E lutterei per uscire Come tutti gli altri prigionieri Ma non abbiamo scampo Sì, è difficile Torna qui, stronzo Ho un pugnale pronto per te Vediamo la serratura Bene Scusi, uscire da qui Ho dei pezzi Trova la chiave Che ho fatto per meritarmelo Vuoi dei soldi? Libertà Farmi uscire E sono tutti tuoi Vai, vai Che si dice? Bene Bene La nozione non piangerà A quelli come te Maledetto Tutti voi traditore Non è pure la porca Preso Sì C'è già un posto più sicuro Il mondo A quanto pare A ci non toccava Dovevi aspettare Il signore Il signore Stai bene? Stai bene? Ehi tu Fermati un attimo È presto Troppo presto Voi Voi Maverati del cazzo Ricorda i miei insegnamenti, Marie? Sì, mamma François Thomas Germain Siete stato espulso per i vostri crimini contro l'ordine dei Templari Chi vi offrirà aiuto incorrerà nella stessa pena Sciocchi Demore mi parla Sava cosa voleva Della ser Della ser Signora Avete visita Dovete aiutarmi, Marie Avevate ragione Re Luigi è in contatto con persone a Seibus Con una mano cospirava contro la rivoluzione Mentre con l'altra Con l'altra Lui firmava sostegno della Costituzione Beh Potete passare queste informazioni alle persone giuste, signor Le Peltier? Ma certo, Gran Maestro Con queste prove la condanna del re è ormai certa Ma cosa... Non c'è tempo Corri Ci alzeremo in volo questa sera, professore? No, no, no Temo di no Questi vecchi modelli sono alla totale mercè dei venti E oggi temo che ce ne sia davvero troppo per rischiare Ora, questo modello in particolare Cosa credete di fare? Uscite immediatamente da lì! Toglie le funi Ti copro io Prosto! Prosto! Bene! Ancora uno! Preso! Arnaud! Arrivo subito! Ferma! Provo a resistere! È davvero bello da quassù Vedrai che panorama Ma non mi dire Il vento aumenta! Ti devi sbrigare! Già, grazie Per caso hai pensato a come faremo a tornare a terra? Oh, queste faccende si risolvono da sole Ehi, i tetti stanno quasi per finire Spero tu abbia un piano Guarda come mi schianto bene nel fiume Potrebbe esserlo? Che cos'è quello? Che diavolo è? Eccolo là! Hai mai visto l'ente di sì? Sopra i tetti No! Lasciali stare e corri! È lui! Che è successo? La fune si è incastrata! Voi! Alt! Un momento! Tornate giù! Alt! Arnaud! Tutto bene! Arnaud! Sto bene? Sto bene? Fermi! Fermate con me! Forse stanno cercando di colpire me Cosa hai combinato prima? È una lunga storia! Sono qui! Mirate! Non mi sembra proprio il momento! Fuoco! Dovrei parlare di questo a Napoleone Mirate! Fuoco! Fuoco! Siamo quasi al fiume! Presto! Ricorra! Arrivo! In futuro Alla fuga ci penso io È bellissimo Da quassù non si direbbe proprio che la Francia stia andando in pezzi Le... Le cose torneranno mai come erano prima Secondo te? È per te Dopo quello che è successo E ciò che abbiamo perso Quindi è finita? Il corso della storia è cambiato Non si torna indietro? Non si torna indietro Ma... Andare avanti non significa farla finita Elisa Io... Hai barato Sei così lento Ti amo No... Ero di fretta. Dormivi così bene. Non potevo svegliarti. Ti amo, Elise. Qualcuno verrà a prenderla. Sicuramente. Cosa stai facendo? L'hai visto? Iniziato, mi senti? Scusa il rumore. Ci sono un sacco di interferenze oggi. Non mi piace. Ok, un altro potenziamento e poi mi disconnetto. Ti mando subito i dati. Sei molto vicino ora, non mollare. Non siamo riusciti a scoprire date e il luogo della morte di Germaine. Quindi dovrai pensarci tu. A dopo. Ma che stai facendo? Ah! Ne sei proprio sicuro? No, non proprio. Ma il marchese ha la convenzione nazionale con le peltie. Magari sa qualcosa. Qual è l'esempio migliore della depravazione del vescovado? Sette suore che corrompono un prete lascivo o un benedettino ben dotato che sodomizza una capra di nome Pius? Per nulla al mondo risponderò mai a questa domanda. Bene, Arnoux. Capra sia. Allora, che posso fare per te e per la tua bella amica? Louis Michel Peltier. Cosa puoi dirci su di lui? Ah! Il caro Louis è passato dall'osteggiare la pena di morte a chiedere la testa del re in due anni. Dove lo troviamo? Purtroppo di rado. Socializzo con i miei colleghi. Non capiscono perché non voglio decapitare gli innocenti. A proposito di innocenti... Desad. Mm-hmm. Le peltie. Sai, credo che ceni spesso in un caffè vicino al Palais Royal. Suppongo lo troverete là. Altrimenti, ritornerò. Davvero? Allora spero di sbagliarmi. No, non credo. Vino per il palazzo. Passa dal retro. Stavolta quelle finestre devono brillare. O il signor Le Peltier vorrà la mia testa. Sì, signora. Buongiorno, cittadino Le Peltier. Cittadino Taien. Volete avvelenare i miei clienti? Come, prego? Questo vino è tagliato con sali di piombo. Un bicchiere e... Forza, torna qui! Farò di te una marmellata. Non so di cosa... Faccio questo mestiere da trent'anni, amico. Riconosco bene il vino adulterato. Sono cinquanta libri di vino queste qui. Che cosa posso farci? Beh, potete venderle come rimedio per i caprizzolini. Che cosa che... Potrebbe tornare utile. Scusate, signorina. Il signor Le Peltier si è lamentato dell'aria... Questo vi convincerà? Oh, certo, signore. Remy! Apri la finestra! Il signor Le Peltier trova quest'aria viziata! Eh, avevi detto... Obedisci! Va bene! Il faudra bien plus qu'un regard pour m'impressionner. Allez chercher a boire. Cameriere! Signore, il vostro miglior vino. Stasera festeggiamo la morte del tiranno. Subito, signore. David? Una bottiglia di Chateau Diff! Svelto! Questa opportunità di assassino, di avvelenargli la bottiglia per poi ucciderlo, non l'ho mai saputa fare, anche se immagino sia una figata, quindi vi beccate la versione ignorante dell'assassinio. Il re deve sembrare un criminale e un traditore. Solo allora. Dopo averlo giustiziato come un delinquente, sveleremo la grande verità di Chateau Diff! Svelate la verità che preferite, Gran Maestro. Io, però, agisco solo per la Francia. Avevate ragione. Re Luigi è in contatto con persone assai rusche. Cittadino Le Peltier, i voti sono 360 a favore dell'esecuzione e 360 per la clemenza. Voi cosa votate? Esecuzione. Il mio voto è stato registrato, Gran Maestro. E? Il re morirà. Non avevo dubbi. Non vedo l'ora di assistere alla fine della tirannia. Vi riserverò un posto in prima fila. Stanno portando su il re. Sei sicuro che Germain sarà qui? Sì, certo. Quindi cosa aspettiamo? Dividiamoci. È la cosa migliore. Portate qui i condannati! Una, che sta succedendo? Ciao, Arnaud. Signor Germain. È giusto che tu assista alla rinascita dell'Ordine dei Templari. Dopotutto, eri lì fin dall'inizio. De la Serre. Ho provato a convincerlo. Ma l'Ordine era ormai corrotto. Bramavano potere e privilegi per sé. Ma tu volevi rimediare. È così. Uccidendo il Gran Maestro. La morte di De la Serre era solo il primo passo. La morte di De la Serre era solo il primo passo. Questo è il culmine. Popolo! Io muoio innocente! Signori, io sono innocente di ogni crimine che mi ha imputato. Che dal mio sangue possa sorgere la felicità dei francesi. Il Re è solo un simbolo. Un simbolo incute paura. E la paura favorisce la manipolazione. Ma poi ci si dimentica dei simboli, come vedi. Questa è la verità di Demolée. Il diritto divino dei Re non è altro che il riflesso del sole che brilla sull'oro. Quando la corona e la chiesa crollano, chi controlla l'oro controlla anche il futuro. Jacques de Molay. Sei stato vendicato. Ora devo andare. Buona giornata. Uccidetele. Va! Che è entrata in scena? Che stai facendo? Inseguilo! Non ti lascio qui a morire. Sai finire a noi! Proteggete il Gran Maestro! Uccidetela! Elisa, andiamo via! Ci penso io. Insegui il Germain. Non lo lascerò scavare. Sì! Maledetta! Resta a terra! La nazione non piangerà a quelli come te. Maledetto animale. Elisa, aspetta! Vuoto. Deve essere andato a piedi. Elisa! È fuggito! Diavolo! La nostra unica chance! Non è finita. Noi troveremo un'altra pista. No, invece. Pensi che sarà così incauto ora, sapendo che lo talloniamo? Avevi l'occasione ideale per ucciderlo. E te la sei fatta scappare! Per salvarti la vita! Nessuno te l'ha chiesto! Ma che dici? Rischierai la vita pur di uccidere Germain. Se non hai lo stomaco per questo, allora non mi servi! Elisa! Elisa! Vorrei parlare un attimo di questa scena. Innanzitutto, se ci fate caso, già questo momento qui appare quando Vescovo dice all'iniziato di voler rivivere i ricordi di Arnaud. Se già c'è questa scena, vuol dire che già gli assassini avevano i ricordi di Arnaud fino a questo punto, quindi a che cacchio serve farmi rivivere i ricordi da quando è bambino e farmi fare tutto questo percorso, già non ha senso. Complimenti agli scrittori di questo scempio. Però almeno c'è una cosa interessante che viene spesso sottovalutato, anche perché non è spiegato per niente bene, ovvero proprio Germain stesso. Germain, nella saga di Assassin's Creed, è un personaggio importantissimo per il futuro dei Templari. Questa è una roba che verrà spiegata più avanti, ma ve la dico già adesso così che i suoi discorsi abbiano finalmente un senso quando ci sarà la resa dei conti finale. Germain è quello che trasforma i Templari in modo tale che in futuro diventino poi, come ben conosciamo, l'Abstergo Industries. Fino a questo momento i Templari si erano mimetizzati, si erano uniti alla Chiesa, alla nobiltà, comunque tutti i luoghi in cui c'era davvero potere. Come vedremo anche in Syndicate, facevano parte al 100% della società, ne facevano parte, erano praticamente delle figure pubbliche. Ma qui Germain dice una cosa importantissima, ovvero noi Templari dobbiamo stare nelle retrovie, non dobbiamo farci accecare anche noi dai giochi di potere, noi dobbiamo davvero un po' come gli assassini agire nell'ombra e tirare i fili dietro le quinte. Quindi noi adesso stiamo eliminando la monarchia, stiamo dando enormi problemi alla nobiltà stessa. Infatti in quel periodo comunque la Francia era in condizioni miserabili, anche le chiese poverine venivano utilizzate praticamente come magazzini per fieno, robe varie, infatti non a caso se ne trova un po' anche dentro Notre Dame stessa. E questa cosa c'è anche nei glifi di Brotherhood, che non possono, quando c'è quella parte in cui viene detto non possiamo più utilizzare l'aristocrazia per controllare il popolo, dobbiamo sfruttare qualcosa di molto più sottile. E effettivamente, quasi 200 anni dopo, i Templari creeranno il capitalismo pur non essendo loro appunto a loro volta capitalisti. È molto bello, molto sottile. Questa cosa comunque l'abbiamo vista già in Brotherhood, però è bello come si ricolleghi tutto. Peccato che appunto Unity in generale fa abbastanza cacare. E una cosa che fa abbastanza cacare è Elise che manda a fanculo Arnò perché ha provato a salvarla. Ma questo in realtà la renderà coerente per una vaccata terrificante che c'è poi alla fine di tutta la sua storia. Però è inutile che mi sfogo già adesso, ne parliamo più avanti. Ehi, Arnò! Che cosa diavolo è successo alla piazza della rivoluzione oggi? Germaine era là e io conosco il suo piano. Dove te... Ti avevo detto di lasciar perdere le indagini. Sì, ma ascoltate! Sì, ma ascoltate? È così che rispetti la confraternita? Sapevo che sarebbe successo. Lo dicevo a Mirabocca riossessionato dalla tua vendetta. Per questo sono entrato nella confraternita! Già, non per via dei nostri ideali o per servire la nostra causa. Per vendicarti. Per redimermi! Dillo come ti pare. hai disobbedito agli ordini di questo consiglio, ucciso bersagli di tua iniziativa e violato il credo a ogni pie sospento. Maestro Trenet? Alla luce di questi fatti non mi resta altra scelta che far votare la tua espulsione. Maestro Belier? Concordo. Che state... Maestro Kemar? Concordo. Arnaud Dorian, sei stato condannato. Ti privo del tuo grado e titolo e da oggi sarai esiliato dalla confraternita di Parigi. State scherzando? Sentite, io so cosa ha in mente Germain. Posso fermarlo! La decisione del consiglio è presa. Adesso puoi andare. Alla luce Diavolo. No, no. Ma dov'è? Brasserie Garso. Ero qui ieri sera. Ma io... Fuori! Hai già causato abbastanza guai. Bene. Mi procurerò del vino in altro modo. È stato ieri notte. Forse è ancora là. Oh, Cristo! Di nuovo tu! Non hai fatto abbastanza danni? No, io... L'orologio di mio padre. L'hai visto? No, certo. Chiedilo ai quattro uomini che hai preso a pugni. Idiota. Non ti conviene. Sparisci, vecchia. Niente, non ti arriderà la marcia di progresso. Non ho più peur, né della royautà. Niente, non c'è... Scusate se vi distraggo da questo momento altissimo di Assassin's Creed Unity, ma vorrei farvi notare che questa è chiaramente una rissa da bar, ma tutti hanno le armi. Questo perché i Unity non ci sono i comandi, non si possono usare semplicemente i pugni. E quindi una rissa da bar diventa una carnificina, ma poi come vedremo più avanti, Arnò non lo trattano come uno che ha appena ammazzato un sacco di gente. Quindi complimenti Unity, ce l'hai fatta ancora una volta a dimostrarci come non si lavora a un videogioco. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dove? Al palazzo! Sono al palazzo! Grazie. Che bottino! Ah... Prendete tutto! Su! Altro che rubare gli spiccioli ai contadini, eh? Hai causato parecchio fermino, direi. Che devo dire? Eri un cattivo esempio. No, eri tu il pe... Non posso venire, padre? Forza, figlio. Tu resta qui ad aspettarmi. Io tornerò quando la lancetta sarà in cima. Eh, Arnò? Niente esplorazioni, eh? Sì, padre. Aspetta. Che diavolo è? Ti farò soffrire! Che diavolo vuoi? Il mio orologio. Ah no. Dammelo, lo rivoglio. Non andatevi troppo comandante! Niente esplorazioni, eh? Eh... 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 No, no, no. Arnaud. Sei a pezzi. Sembra che tu voglia qualcosa da me. Bella cosa da dire dopo che sei sparito. Mi hai fatto chiaramente capire che non avevi più bisogno di me. No, non osare parlarmi in questo modo. Cosa vuoi che ti dica, Elise? Scusa se non ti ho lasciato morire. Scusa se ci tengo più a te che a uccidere Germaine. Credevo volessimo la stessa cosa. Io voglio te. So di portarmi addosso la colpa della morte di tuo padre. E non c'è niente che non farei pur di rimediare e impedire che tu soffra ancora. Se sei qui hai qualcosa in mente. Che c'è? Parigi ormai è spaccata in due. Germaine ha portato la rivoluzione a nuove vette di orrore. La ghigliottina è all'opera giorno e notte. E quindi che cosa vuoi che faccia? L'Arno che amo non farebbe questa domanda. Sei migliore di così. Io ritorno a Parigi. Vieni con me. Ho ancora una cosa da fare. Va bene. Io penserò al trasporto. Ma niente guai. Sta attento. Purtroppo l'episodio devo concluderlo a questo punto perché mi sono dilungato troppo con alcuni discorsi e se no la puntata dura veramente un'eternità. Ma vorrei farvi notare come Elise si riconfermi un personaggio orrendo nel videogioco perché dopo che ha mandato a fanculo Arno gli fa anche quasi quasi lo rimprovera che se n'è andato a ubriacarsi. Va bene sister come dici tu. E poi Arno non è un assassino non è più un assassino ma ha ancora tutti gli abiti che per carità fa figo ma che ti servono perché non puoi per gameplay. Pensate in maniera un po' un po' superficiale strano perché Unity non è mai successo che qualcosa venisse fatto in maniera superficiale. Comunque andiamo avanti con il prossimo episodio noi ci vediamo grazie di tutto e ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.